musica 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 però aspetta impostazione cassicio adesso diventeremo un cane però con il cane non puoi diventare invincibile voi morirei da cane che te frega attori ma puoi diventare qualsiasi cane sono di rottweiler qualsiasi animale puoi però non lo so se si fai un giro la cane puoi attaccare pure non attaccare questo è un po' questo questo è un po' questo è un po' insomma qualsiasi qualsiasi dov'è una persona no salta 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 adesso salta ha saltato ha saltato a me mi pare uno ci vuole con il cerchio si attacca grazie l'ultima persona l'ultima persona voglio fare un giro come non va a essere un uomo capito io assassinare te voglio camminare normale come se la faccia adesso una stellina tengo sta arrivando i cosi che significa che sta arrivando la polizia che significa che la stellina arriva la polizia se hai quattro se hai ma non puoi spiegare la macchina se hai tre stelle arrivano due camion se hai quattro non delle specie di camion questo non fa pure pipì no questo non fa niente non lo sai niente mai questa mano no solo vuole molto bruttissimo vuole diventare un un bagnante che fa questo cane? no fa solo in giro vai stanno a cercare sono morto fuori 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 vabbè vabbè sei invincibile sei invincibile sei invincibile? no sono invincibile cioè veramente non puoi mangiare qualcuno alla polizia sei invincibile la soddisfazione non è parecchia la soddisfazione cambiamo vai trogli sto cane come ti faccio io cosa ti metto però tu non guarda non è sporco come sta suonando animale tipi da spiaggia turista costumi però non mi fa altre ore ma così vittima al coccolo si 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 super salta super salta super salta tutto si attore tipi da spiaggia tipi da spiaggia turista che svegliazza dov'è la gente viste cammino con costumi i sapi guarda New York dicembre allora tu puoi prendere tutto quello che vuoi tipo prendi adesso la pistola no non ti metterla pompa vabbè non devo sparare la gente lunare ah uuuuuh non finiti vabbè stai fammi capire ma non voglio la pistola voglio la pompa pompa questo salta caso si spara la mira come sapete la mira come sapete così se vuoi guarda se vuoi un'altra no la mira è così ma fammi capire super salta eh ma non sai come cadere e non puoi muovere quando cade ma perché vuoi muovere così ah almeno muore invincibile come ha fatto super salta quadrato no no se tieni premuto quadrato aspetta che questa la mira vedi eh quello che ti però non si altera fai venire a pulizia dai vicino esplode ah non voglio che esplode voglio vedere un attimino come la situazione voglio mettere fuciucchi nella coppa ma eh eh non può si può stare sopra ah io ho un palazzo dove si può stare io ho un palazzo andiamo qua gli occhi vediamo la uso messa fanno indossare grazie ti facevi passare su te no quello non lo voglio scambizzare ma vabbè se si vuole fare il bagno sotto il bagno sotto il bagno sotto eh il bagno sotto si non lo so stai dicendo il bagno si vuole pulire non so cosa sto dicendo non so cosa sto dicendo ci sono arrivato fino alla ok chiudo il cuore oh come stai vabbè sai di pescare dai c'è stanno le scale questo devi fare il parcours sai di pescare l'ormale no ti fa parte salta eh vedi dove arrivi fai prima adesso fai 200 piani ma oggi fai 200 piani a pelle è zumba o no? no grazie 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 ma tu mi dici zumba mi avrò salato 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 vai su vabbè 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 ma grazie a te ti hanno colpito bravo bravo ti hanno ricolpito bravo ti hanno colpito ti hanno stricolpito secondo me sono 300 piani come è finito eccolo là vedi ultimo il penultimo vai 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 oh bellissimo ok dammi la pompa la pompa la pompa non può sparare no ma non la da sopra perché la pompa non può sparare non spara lontano non spara lontano non spara lontano vado questo video che quello per se non è stato stanno salendo sono stati ognuno no io apro piaaa la mia ma si è sparato lui a me si ma perchè tu spari vicino a te tu vuoi sparare io quando ti spoi ecco mi risulta a questo non c'è il fungine che cazzo fa? vai, cammina fa niente, devi fare un giro, cammina ti ho stato mai andato a macchina così? nooo ho messo quella senza tenuta vai che cammini questa macchina ho messo ho messo quella la macchina che non guida, c'è sgomma sotto sgomma sotto che è una macchina nuova sgommano solo tutte le macchina no, ho messo io e come hai fatto a mettere? no, ho cliccato tutto in X ma perchè hai sparato dentro? esci di fuori e dentro dentro no perchè ho cliccato si entra? ma qua dentro no, non puoi guidare, si gomma tutte le macchine sgommano? ho messo... vai va va guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda mi fa fa un po' aceracoprire ma io riesco a mirare bene quello che mi manca io non miro bene vai, va si ma non miro bene si ma non miro buone ah con questo ti devo guarda che mi putto ah che cane che sei? ah se sta facendo quando andai a scondire ti ho trovato eh chissà che ti ho trovato c'è qualcuno dietro di me oh poi devo mi sfacolare uno solo uno vai lo salto lo salto lo salto bianco oh mi vuole si può saltare e sparare allora stuffare a me si può saltare e sparare va bene oh Dio in aria in aria oh oh c'è qualcuno che fai esce ma devo fare uno questo questo questa uno va bene vabbè ah sta andando a babbole ho sparato abbastanza ho sparato a fine di manca eh purtroppo vieni 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 fa male all'elicottero ma vuoi fa male l'elicottero vieni c'è un altro ma puoi per tempo in giro non morimmo mai bella la prima mitraglietta vieni la ponte a questo punto vieni la ponte vieni la ponte vieni la ponte vieni la ponte ma se ci spartano io farei mitra eh si spara da 7 di uno vediamo la spara una macchina vieni la ponte vieni la ponte ahahah su questo che rai oh come fate a colpirlo colpito ahahah che cuore d'entrana macchina che cosa allora chiss no ah c'è che la ponte che fa c'è che la ponte c'è che la ponte c'è che la caccia c'è che la ponte va bene penso che Oh, come esiste qui stasera? Che ti fottola una pedra che puoi prendere Non lo so Perché non si muove questo? Ma va 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 sta bene Ho preso, ho preso E poi c'è da un momento Non ci arrivi Dice tu non ci arrivi Non ci arrivi Ti puoi cambiare la personaggia? E ti metti anche un barbone Metto una normale, tranquillo Si, troppo violenza Ok Troppo violenza Mettiamo uno tranquillo Un città Ok vado, metto io dai Il bighellone, mettiamo il bighellone dalla panza Ah, vuoi prendere la panza? Ah, vuoi prendere la panza Oh, l'alino! Oh, spi, spi, spi Guarda c'è il Pogo Piglia tu la piglia Piglia con qualcosa Spiglia questa, non il cameriere Questa spi Artista di strada Faremo un cameriere vino No Poi, clown No A me piace di più il Pogo E' Pogo E' Pogo E' Pogo E' Pogo E' Pogo E' Alleno Spaziale Papà Cazzeggio Allora noi finiamo con questo video Facciamo un altro Papà Cazzeggio con Pogo Papà Cazzeggio Prendiamo un personaggio ogni volta Ah va Quindi noi vi salutiamo adesso ragazzi Cercate di staccare la realtà dal gioco Imparate questo Oh esercito Alla prossima Esercito Esercito Guarda qua